Un gigantesco bunker a schiavonia all'interno degli ospedali riuniti di Padova Sud intitolato a Madre Teresa di Calcutta è il nuovo punto di riferimento per la radioterapia in Veneto. Il centro dell'Istituto Oncologico Veneto può contare da oggi su attrezzature di assolute innovazioni inaugurate dal presidente Zai al termine di un investimento di quasi 13 milioni di euro, sei dei quali per l'edificio, il restante per le attrezzature, che sono un acceleratore lineare, uno degli strumenti più avanzati per la radioterapia di precisione, una tomoterapia che permette di aumentare la risoluzione dell'immagine delle zone da trattare, aumentando nella precisione, riducendo le emissioni sul paziente malato, soprattutto bambini, prima installazione in Italia, così come unico in Italia è il tomografo computerizzato Simultac, che può fare tac ad alta velocità in 4D ed è capace di seguire anche il respiro del paziente. Prende forma con questo investimento la riorganizzazione dello IOV, che sta completando il trasferimento anche di tutte le chirurgie a Castelfranco Veneto. Lo IOV è l'Istituto Oncologico Veneto ed è per noi l'occasione di ricordare che abbiamo il nostro centro tumori, fra virgolette, del Veneto, che organizza e coordina tutte le oncologie di tutti gli ospedali del Veneto. Abbiamo cure innovative, macchinari innovativi come questi di oggi, due di questi macchinari sono primi a livello nazionale, le prime macchine a livello nazionale e siamo sempre più puntuali nella cura dei tumori. State definendo il nuovo piano sanitario regionale che definirà i prossimi anni, ci sono state dei distinguo e anche delle prese di posizione sia da parte alleata da Forza Italia, che è preoccupata per la gestione dei cronici, sia da parte dell'opposizione. Lei prima ha fatto una difesa di questo impianto? Guardi, noi abbiamo visto il distinguo e le osservazioni anche otto anni fa quando abbiamo fatto altre operazioni come questa. La verità è che abbiamo sempre la miglior sanità a livello nazionale. Siamo performanti, i veneti hanno la fortuna di essere curati in ospedali che si pongono come target tra i migliori a livello internazionale e allora vuol dire che qualche scelta positiva in questi otto anni li ha ben fatte. Sulla medicina di prossimità, diciamo così, lei prima ha fatto dei distinguo, cioè la medicina di gruppo come potrà essere coniugata con il territorio veneto? Guardi, i medici di base, i quasi 5.000 medici di base sono un anello fondamentale dell'erogazione del servizio sanitario in Veneto, quindi vogliamo un'ottima collaborazione. Ho semplicemente sostenuto che nei paesi di campagna dove l'isolamento si vive e si respira quotidianamente nei 574 comuni del Veneto è difficile imporre una medicina di gruppo, cioè mettere assieme 4 o 5 comuni e pretendere o ipotizzare che un anziano si faccia 4 o 5 chilometri per trovare un medico. Bisogna mantenere il medico nel paese. Il futuro dell'ospedale di Padova rimane invece al centro del dibattito politico. Quando si potrà iniziare è la domanda che tutti si pongono. Per noi subito, nel senso che il sindaco si è impegnato a darci l'area, ci diano l'area. Il dottor Flora ha mandato di fare veloce e si sappia che noi stiamo aspettando da dicembre. L'inchiesta può creare qualche problema, qualche rallentamento? Ma guardi, male non fare, paura non avere, nel senso che noi non abbiamo fatto nulla di male e ci siamo preoccupati di fare un ospedale. Mi sembra che l'inchiesta sia un'inchiesta che prevede che siano state sentite le persone informate per far chiarezza su alcuni passaggi, ma nulla a che vedere con la correttezza di tutto il processo. Assolutamente no. Le banche chiedono garanzia alla Regione ed un incontro chiarificatore prima della cessione dei terreni e questo a Zaia non è per niente piaciuto. Io voglio essere chiaro, noi abbiamo un accordo firmato dove il Comune si impegna a trasferire l'area. Direi di non mettere in piedi questa farsa di dire che le banche vogliono avere la certezza incontrando il Presidente della Regione che si farà l'ospedale, perché lo ritengo offensivo nei confronti della Regione. La Regione ha fatto atti in consiglio regionale, stanziando soldi 50 milioni di euro all'anno per fare l'ospedale, atti in giunta regionale e atti a tutti i livelli. Per cui se una banca ha dubbio che la Regione faccia l'ospedale vuol dire che è una banca che è in mala fede ed è una banca a questo punto che sta trovando scuse per non cedere le aree. Perché chiedere di avere garanzia al Presidente che si faccia l'ospedale vuol dire veramente che siamo arrivati all'affarsi. Mi piacerebbe sapere se questa è un'invenzione di qualcuno o se le banche veramente hanno chiesto l'appuntamento. Ho l'impressione che le banche non mi hanno chiesto questo appuntamento. Grazie.